Ciao a tutti, sono Alessio Martinelli, formatore e consulente nel mondo della fibra ottica. Ci sono delle tecnologie che all'interno dello stesso settore, dello stesso ambiente, in alcuni campi sono ormai conosciute, assodate, in altri campi invece sono davvero sconosciute. Si tratta in questo caso dei connettori MPO. Li avete mai sentiti nominare? Sono questi. Il connettore MPO è un connettore multifibra, permette cioè di collegare tramite una connessione, una giunzione meccanica guidata, in questo caso dal connettore, più di una fibra alla volta. Il connettore viene montato all'estremità di un cavetto minicore, questo cavetto assomiglia a una bretella ma in realtà ha la differenza di contenere al suo interno un maggiore numero di fibre, in questo caso le fibre sono 12. Questa tipologia di connettori viene molto utilizzata nei data center o nelle distribuzioni private, nelle reti LAN. Esiste sia per le fibre monomodali che per le fibre multimodali. È una soluzione salva spazio. Guardiamo il confronto in termini di dimensioni tra un connettore MPO e un connettore SC. Sono praticamente molto simili, quasi uguali a livello di ingombro. Con la differenza che qui c'è una fibra sola, qui in questo caso ne abbiamo 12 ma esistono connettori MPO anche da 24 fibre. I cavetti minicore connettorizzati MPO da entrambi i lati possono avere differenti polarità. Nella polarità di tipo A le fibre sono connettorizzate nella stessa maniera, quindi la fibra 1 sul connettore corrisponderà alla fibra 1 sul connettore opposto. Nella tipologia B, inversa invece, la fibra 1 sul connettore corrisponde all'ultima, la fibra 12, sull'altro connettore e così via fino alla fine. La terza polarità di tipo C a coppie inverse prevede che la fibra 1 sul rispettivo connettore sia invertita con la 2, la fibra 3 con la 4, la 5 con la 6 e così via. A seconda del tipo di cablaggio che si dovrà realizzare si potrà scegliere il cavetto con la polarità più comoda. È possibile trasmettere il segnale su tutte le fibre del connettore e quindi del cavetto senza che il segnale di una fibra dia fastidio alle fibre adiacenti oppure è anche possibile lavorare con solo alcune fibre lasciandone libere delle altre. Alcuni standard ad esempio prevedono la realizzazione di circuiti a 40 gigabit dividendo questi 40 gigabit in 4 flussi da 10. Quindi per la trasmissione in un verso si useranno le prime 4 fibre e per la ricezione nel verso opposto si useranno le ultime 4 fibre. Le 4 fibre centrali del connettore non verranno utilizzate. Anche se per molti sembra di parlare di qualcosa di assolutamente futuristico o fantascientifico, in commercio sono già presenti svariati modelli decine, centinaia di modulini ricetrasmettitori ottici SFP-MPO che permettono appunto di risparmiare porte e spazio all'interno dei rack nei quali vengono installati. Infine una curiosità, MPO è l'acronimo di Multifiber Push-On ed è il nome dello standard. Esiste anche una versione realizzata dall'azienda US Connect che si chiama MTP. Visivamente è molto simile, io non ho avuto modo di verificarlo, ma è un connettore che dovrebbe avere delle caratteristiche qualitative più elevate rispetto all'MPO standard. Per queste altre informazioni e curiosità sul mondo della fibra ottica, vi invito a consultare il mio manuale Lavorare con la fibra ottica. Vi lascerò il link per l'acquisto su Amazon nella descrizione del video. Per oggi è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, che abbiate scoperto qualcosa di nuovo su questi connettori che molti ancora non conoscono. Io sono Alessio Martinelli, per maggiori informazioni è il mio sito www.fiberspecialist.it Grazie, alla prossima!